Melito Irpino interessata da lavori di riqualificazione che riguardano l'intero paese messo sottosopra dalla presenza dei cantieri ovunque. Questi lavori sono stati un po' fermi sinceramente perché i decreti inesitati entro il 31-12-2015 hanno determinato un po' uno stop di questi lavori perché le imprese che stavano lavorando dovevano riscuotere un bel po' di soldi. Noi stiamo facendo un lavoro per l'efficientamento energetico della scuola, la riqualificazione del centro urbano, il secondo lotto e l'infrastrutturazione del PIP, il completamento dell'infrastrutturazione del PIP. Abbiamo metanizzato sia il PIP sia la strada che collega il PIP con il centro cittadino. Abbiamo portato l'energia elettrica perché abbiamo diversi lotti assegnati da un po' di anni e molte aziende non si insediamano proprio perché mancavano una parte di opere di urbanizzazione. Soddisfatto è il primo cittadino che elenca i lavori che riguardano vari comparti nell'ambito dei finanziamenti riguardanti l'accelerazione della spesa e che ammonterebbero a circa 4 milioni di euro. Noi stiamo completando lavori per quasi 4 milioni di euro. Abbiamo il centro urbano, il secondo lotto del centro urbano che ammonta circa 2 milioni e 800 mila euro complessivamente, i lavori sono circa 2 milioni e 2. L'efficientamento energetico della scuola, il finanziamento complessivo è di un milione e mezzo di euro e i lavori sono circa un milione e cento e ripeto il completamento dell'urbanizzazione del PIP sono circa 300 mila euro di cui 200 di lavoro. Se consideriamo che le gare di appalto sono state esperite con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa per cui sono stati offerti lavori in più, quindi sfioriamo i 4 milioni di euro di lavoro.